Sono 46 cani terramani 364 ospitati dal gattile di Coleparco. A seguito dell'ordinanza del sindaco Maurizio Brucchi, infatti, in forma una nota, è stato possibile identificare i cani, in parte grazie microchip e in parte grazie ad alcuni verbali di cattura, stabilendone così la proprietà, ovvero la responsabilità amministrativa. Ho infatti precisato che non per tutti i cani è stato riscontrato il verbale di cattura e pertanto, di fatto, i cani sono stati assegnati al territorio comunale di Teramo. Oltre 46 terramani il gattile ospitava 5 cani di Montorio, 5 di Roseto, 4 di Castellalto, 2 di Castilenti, 1 di Campri e 1 di un privato cittadino. Sulla base delle risultanze della verifica ordinata dal sindaco, prosegue la nota, adesso il comune sa predisponendo la lettera con la quale, ufficialmente, chiederà a tutti gli enti interessati di farsi carico, a partire dal 31 agosto, della gestione degli animali nei canili di loro competenza. Resta però da stabilire quale destino dare ai 46 cani terramani e, a proposito, lo stesso sindaco di Taramo, Brucchi, di concerto con l'Ufficio Ambiente del Comune, ha deciso di lanciare un'inedita campagna di sensibilizzazione all'adozione. Invito tutti i cittadini terramani, spiega il sindaco, a valutare la possibilità di adottare uno dei 46 cani ospiti del gattile, offrendo così una casa e l'affetto di una famiglia di animali che, fino ad oggi, hanno conosciuto ben altra sorte. E per dare un segno concreto della validità dell'iniziativa, lo stesso sindaco Brucchi sarà il primo ad adottare un cane. Inviterò gli assessori, nel corso della prossima giunta, a fare altrettanto, così come farò anche con i consiglieri comunali, nella speranza di poter trovare una casa per ogni cane. Quelli invece che non troveranno casa potranno essere trasferiti ai primi di settembre a spese del Comune di Teramo, nei canili della provincia che hanno manifestato la loro disponibilità ad accoglierli, nell'attesa di poter dare il via al progetto di sistemazione e ampliamento del canile di Carapollo, reso possibile anche grazie al contributo economico del BIM. Nel momento in cui si avvia positiva soluzione il caso del gattile di Coliparco, conclude Brucchi, ritengo sia giusto esprimere una nota di ringraziamento alla signora Gabriella Villanova, che con grande impegno e grande passione ha curato gli animali ospiti, così come evidenziato la stessa ASLE, riconoscendo anche il perfetto stato di salute degli animali. Nello stesso tempo però va ribadito come quello di Coliparco sia e debba essere un gattile, destinato all'ospitalità dei gatti e non dei cani.